ciao amiche e amici cari come state oggi mi riprendo io non è da me perché essendo una persona molto semplice e riservata non mi piace farmi vedere tanto ma questo lo devo a voi devo un grande ringraziamento a tutti voi siamo arrivati ai 10.000 iscritti per me una grande soddisfazione una grande soddisfazione per per i vostri calorosi commenti mi seguite in tanti sia dall'italia che fuori dall'italia che dirvi grazie grazie di cuore vi anticipo che sto per pubblicare il coprispalle che già vi avevo detto molto semplice da realizzare dopo il coprispalle proprio per ringraziarvi andrò a pubblicare un lavoro molto bello molto semplice e facile da realizzare volete vederlo ok ve lo faccio vedere eccolo qua è un pupazzetto di neve realizzato interamente ad uncinetto ho messo dei bottoncini come decorazione la sciarpa realizzata anche ad uncinetto il cappello idem è fatto tutto d'uncinetto non sono inamidati nel cappello nella sciarpina ma il resto si questa è la base questo è il mio grazie per voi veramente niente solo semplicemente grazie spero che continuerete a seguire il mio canale che vi piaceranno anche i prossimi e futuri video grazie perché siete in tanti a commentare a volte anche dei dei commenti un po negativi io sinceramente non posso piacere a tutti perché non tutti siamo uguali ma credo che nel momento in cui su youtube ci sono tante creatrici e creatori come me quando un video non piace basta semplicemente stopparlo e non vederlo più quindi evitiamo i commenti un po più offensivi a me non dà fastidio perché alla fine ciò che faccio lo faccio con amore ci metto veramente il cuore anche perché realizzare dei video non è tanto semplice come sembra c'è tanto lavoro dietro tanto impegno tanto ci sono dei costi perché comunque i materiali costano quindi per me è un hobby è un amore è una passione manca un lavoro detto questo basta ho già detto tanto non è da me ripeto farmi riprendere il pupazzetto di neve vi attende dopo la pubblicazione del nostro copispalle che sarà realizzato per una bambina di 4 circa 4 6 anni lo potete realizzare anche per adulti semplicemente aumentando le maglie niente volevo darmi un'anticipazione di quello che sarà per voi di quello che ho realizzato per voi questo è solo interamente realizzato per voi grazie grazie ancora di cuore un'altra cosa volevo di che volevo ricordarvi visitate il mio sito online di filati filati che provengono dalla turchia sono veramente molto belle ed economici dato uno sguardo perché ci sono occasioni potete acquistare filati con con pochi euro a volte anche al di sotto dei 2 euro in lotto e la qualità veramente stipitosa potete scegliere qualsiasi tipo di filato qualsiasi tipo di qualità niente detto questo io vi lascerò il link giù nelle box info cliccando semplicemente sulla freccetta che trovate sotto il video e vi porterà sul mio sito online grazie 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 10.000 e in più iscritti sul mio canale grazie di cuore ci vediamo con il pupazzetto di neve bacio a tutti ciao